guarda che t'ho ripreso tutto, t'ho ripreso bene bene così mi piace ma questo come si fa? come cazzo si fa qua? si fa? vai che mi riprendo dai bravo bravo fermati, fermati no lì dovevi provo a fermarti prima no, dovevo continuare continuavo forse però va bene perché è tutto bello lucido quella pietra vai vai no, è uno spettacolo ommu non 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 non